Un dramma inaspettato ha colpito il cuore di Mediaset, lasciando tutti nello shock più totale. Cosa è successo e chi è la giovane vita spezzata in questo terribile incidente? Scopriamo insieme la storia di questa tragedia che ha lasciato il vuoto nei cuori di colleghi e amici. Oggi, purtroppo, ci troviamo di fronte a una notizia davvero sconvolgente. Un grave lutto ha colpito Mediaset. Una giovane di soli 26 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Prima di entrare nel dettaglio di questa drammatica vicenda, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace per sostenerci e restare aggiornati sulle notizie più importanti. Ora, la domanda è, come ha potuto accadere una tragedia del genere? Scopriamo insieme i dettagli. L'incidente è avvenuto a Cinisello Balsamo, nei pressi di Milano, precisamente in via Enrico Fermi. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto su cui viaggiava Arianna Paola Alberga ha sbandato, finendo contro il guardrail presente sulla carreggiata. Questo tragico scontro si è rivelato fatale per la giovane, nonostante l'intervento immediato dei soccorsi. I sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato sono giunti prontamente sul luogo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Al momento, le autorità stanno indagando per capire le cause esatte dello sbandamento che ha portato a questo tragico schianto. Tra le ipotesi si parla di un possibile colpo di sonno o di una distrazione fatale al volante, ma solo le indagini in corso potranno fare luce su quanto accaduto. Ogni anno, purtroppo, migliaia di giovani vite vengono spezzate in incidenti stradali che spesso potrebbero essere evitati. Questo caso ci ricorda l'importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida e di mantenere alta l'attenzione. Mediaset è in lutto per la perdita di Arianna, una giovane che aveva un ruolo importante nella vita quotidiana degli studi televisivi. Arianna era conosciuta e apprezzata da molti colleghi che hanno espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa. È stata ricordata con parole affettuose e commosse, testimoniando l'impatto che aveva avuto nel suo ambiente lavorativo. La sua giovane età rende ancora più dolorosa questa perdita. A questo punto, vi invito a condividere nei commenti un pensiero o un messaggio di sostegno per la sua famiglia, un piccolo gesto che può fare la differenza. Eventi come questo ci spingono a riflettere sulle gravi conseguenze psicologiche e sociali che incidenti del genere possono avere, sia per le vittime che per le loro famiglie. L'impatto di una morte improvvisa lascia cicatrici profonde nei familiari, nei colleghi e negli amici che devono fare i conti con una perdita tanto improvvisa quanto devastante. La prevenzione degli incidenti stradali è quindi fondamentale, così come il supporto psicologico per coloro che vivono queste esperienze traumatiche. Le tragedie, come quella di Arianna C., ricordano quanto sia cruciale rispettare le norme stradali, È fondamentale educare i giovani alla prudenza alla guida, evitando distrazioni come l'uso del cellulare o la guida in stato di stanchezza. Ogni passo fatto verso una maggiore consapevolezza stradale può contribuire a salvare vite umane. La speranza è che, attraverso il ricordo di Arianna, si possa sensibilizzare il pubblico e incentivare comportamenti più sicuri. La perdita di una giovane vita lascia sempre un vuoto incolmabile e colpisce profondamente tutti coloro che le erano vicini. In queste situazioni, è importante stringersi attorno a chi soffre e trovare modi per onorare il ricordo della persona scomparsa. A nome del canale Notizie Live Stream, ci uniamo al cordoglio e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Arianna e ai suoi colleghi. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace per supportare il nostro lavoro. Ricordiamoci che, insieme, possiamo fare la differenza. Un saluto e grazie per aver seguito questa toccante notizia con noi.